Si trattava di un rapinatore seriale che a bordo di uno scooter aveva compiuto nel solo giro di un mese tre rapine. È un italiano residente a Montesilvano di 30 anni con precedenti penali ad arrestarlo i carabinieri di Pescara che in questo caso hanno messo in pratica un metodo di vecchio stampo. Grazie proprio alla conoscenza del territorio, alla conoscenza degli uomini, sono riusciti proprio ad advenire alla identificazione dell'autore di queste rapine. Un rapinatore tra l'altro che agiva sempre travisato, con il casco, utilizzava uno scooter rubato, quindi non è stato semplicissimo, però siamo stati molto tempestivi nel dare una risposta. Quanto è il bottino accumulato dalle rapine? Complessivamente 5.000 euro in tutti gli episodi contestati. Distributori, in un caso anche un ufficio postale, agiva sempre nella stessa maniera, si presentava per esempio i distributori a bordo di questo scooter con il volto coperto da un casco, utilizzava una pistola che abbiamo recuperato e che poi si è rivelata essere in realtà un'arma, una soft air, però opportunamente modificata che sembrava in tutto e per tutto un'arma vera. C'erano anche i travestimenti ritrovati? Sì, sì, assolutamente. Abbiamo trovato ovviamente anche il casco, una specie di passamontagna che utilizzava per celare anche la parte alta del volto, per farsi riconoscere il meno possibile. Si cerca un complice, perché dalle immagini compare una seconda persona. Sì, in una di queste rapine, in un distributore, come si vede da alcuni fotogrammi di cui noi siamo in possesso, c'è un secondo complice che gli fa compagnia sullo scooter con il quale perpetra questa rapina. Quindi le indagini stanno andando avanti perché dobbiamo identificare anche questa seconda persona.